ciao a tutti e bentornati in cronorda su indie gameplay ita siamo qui con l'episodio 3 di daison sphere program perché me l'avete chiesto insomma e vi piacerebbe vedere questo gioco continuato e quindi andiamo avanti ma andiamo avanti molto tranquillamente fino a quando non scopriremo che qualcuno sta per attaccarci ci distruggeranno e dovrò ricominciare la partita però per intanto il gioco pare piacervi molto quindi io voglio portarlo avanti la cosa che vorrei fare ora è sfruttare questa parte qua che è abbastanza libera da ogni cosa per liberare tutto lo spazio dagli alberi ottenendo comunque materiale e farci una stazione di produzione energetica perché allora guardando nella ricerca la cosa interessante allora abbiamo raccolto il solar collection e andando avanti c'è questa diciamo photon combiner e questo photon combiner avanzato per poter prendere diciamo l'energia ancora dei fotoni però credo che si fermi qui perché vedete che questa è la main quest quindi praticamente noi procedendo qua si va verso il completamento della missione tutto il resto sono cose opzionali quindi mi piacerebbe vedere ok mi piacerebbe molto fare questo l'energy storage quindi le batterie batterie che poi vanno a la trasmissione interstellari di potenza ma vabbè quello è una cosa molto avanzata quindi e anche addirittura l'environment modification quindi la possibilità di fare un po' di terraformazione però per fare questa cosa dell'energy storage mi serve beh prima di tutto la ricerca in crystal smelting ma ancora prima mi serve sbloccare la possibilità di ottenere di poter creare quelle e quei cristalli rossi quindi voglio capire come si fa quindi cerchiamo di capire energy matrix ok ci sblocca questo quindi sarà vitale necessario ottenere credo questo sì quindi dobbiamo fare questo l'alta efficienza plasma control che mi da prismi plasma exciter che non so a cosa serva ma penso sia cosa piuttosto avanzata e poi il plasma e faini e extract refining quindi l'estrazione di petrolio va bene facciamolo attiva intanto io qua diventato giorno devo sempre tenere d'occhio la mia batteria continuiamo a liberare un po di spazio qua perché questa diventerà la nuova zona di produzione energetica dove piazzeremo pannelli solari dove piazzeremo diverse cose qua verranno messe le batterie sarà il luogo principale dove produrremo l'energia e poi andremo a distribuire la credo e adesso io vorrei un attimino ottimizzare tutto l'impianto qui ma la vedo dura al momento vediamo intanto stiamo facendo la ricerca la ricerca sta andando avanti perché stiamo producendo quindi molto bene allora vediamo un attimo se riusciamo già a creare un po di questi wind turbine riusciamo a farne 18 ne produciamo 7 ok così si mette all'opera intanto stiamo consumando una quantità di energia spaventosa quindi adesso mi metto qui e vediamo se si infatti non abbiamo il carbone dobbiamo assolutamente andare a prenderci il carbone perché a breve rimarremo senza energia quindi andiamo a questo magazzino e buttiamo un po di carbone dentro di noi che poi ci mettiamo qua così almeno abbiamo la generazione quindi 1 2 3 e 4 ok un giga joule produciamo quindi riusciamo stando vicino a questa ad andare in positivo nonostante la massiva produzione che stiamo facendo nel momento in cui ci allontaniamo andiamo in perdita ok allora aspettiamo aspettiamo e vediamo la creazione che dovrebbe finire tra un attimo adesso si sta craftando come sapete già tutta la cosa poi vediamo un attimino anche questi perché questi qui trasmettono l'energia quindi potremmo con questi andare ad alimentare qualsiasi cosa qua quindi andare a demolire questi queste turbine e fare un impianto diciamo che alimenta e tutto alimentato da qua in attesa ovviamente dei delle produzioni diciamo quelle un po più avanzate di energia e soprattutto lo storage energetico quindi le batterie ok dai abbiamo quasi creato tutte le turbine che ci servono quindi adesso ok abbiamo ricercato light plasma cosa qua bene avviamo un'altra ricerca che questo vediamo un attimo abbiamo ricercato questo ricerchiamo questo qui e poi possiamo andare a prenderci l'energy matrix quindi questo qua ci chiede 100 andiamo a farlo ok abbiamo finito la produzione si guardando che ci si sta ricaricando la batteria in modo massivo quindi siamo messi bene allora andiamo con l'inventario prendiamo le otto pale eoliche e le mettiamo una due due eh ci dice che è troppo vicino tre quattro cinque vedete che adesso si sta creando tutto questo parco eolico ok quante ne abbiamo ancora vediamo finché ce ne fa una una ancora ne abbiamo troppo vicino la mettiamo qua ok poi ne abbiamo ancora no mettiamo che i pannelli pannelli saranno molto utili quando non c'è quando c'è il sole più che altro ne mettiamo uno anche qui perfetto ok questo sarà il nostro generatore di energia con cui poi andremo poi a rifornire tutti dovremo produrre anche un po' di poi magari il concetto è sbagliato però vediamo abbiamo sviluppato anche questa vabbè intanto scusate poi andiamo a vedere anche quella nuova costruzione voglio perché poi la rotazione dovrebbe essere esattamente l'avamo posizionata così sì allora abbiamo un po' di questi cristalli che ci servono per la ricerca quindi continuiamo a ricercare allora abbiamo la produzione che quindi dovrebbe vediamo dovremmo fare craftare questo la tesla tower ma anche la wireless power tower che sembra essere un'evoluzione di quello vediamo come funziona trasmette consuma energia dalla power gate per caricare il mac ah ok questa invece ah ok quindi questa qua la possiamo fare me la fa fare me la dovrebbe aver già data presumo no però per farla ho bisogno dell'assembler no possiamo farlo anche noi infatti possiamo farne mi chiede plasma exciter ok la facciamo vabbè ci ha fatto anche una torre di tesla torre di tesla possiamo farne 37 ne facciamo una decina che almeno ok voglio però posizionare questa e vedere come funziona perché io la posiziono qui ah guardate che bello questa qua sarà la zona dove mi ricaricherò le batterie immagino ah questa qua praticamente connette tante zone lontane ah interessante praticamente fornisce energia a un sacco di zone quindi ad esempio se io ne producessi una adesso ne faccio una subito invece che farne 9 vabbè vediamo come funziona vediamo come funziona perché se io adesso ne posiziono una stiamo esplorando il gioco insieme quindi insomma se la metto qua no mi fa un po' di distanza però vedete che ah interessante ah interessante interessante allora se io provassi ad eliminare non so una torre tesla qui questa decidessi di eliminarla quindi bloccando la produzione però stiamo provando eh ragazzi quindi non è che ok ok già funzionerebbe così questo no gli manca proprio l'alimentazione però voglio provare a fare una cosa elimina anche questo elimina anche questo allora adesso voglio provare a fare mettendo questo no 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 però voglio mettere questa questa qui la metto qui vedete dove parte dal parco eolico andiamo qui poi la mettiamo qui e poi la mettiamo qui vediamo se riesco a alimentare tutto questi e queste vediamo se funziona se riusciamo ad alimentare tutto bene sì 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 direi che direi che il sistema funziona e possiamo avendo recuperato quelle pale eoliche andare a metterne altre qui sempre nel parco eolico questo non è propriamente farina del mio sacco perché ho visto che tanti lo facevano in video quindi va bene poi andremo anche a ottimizzare il resto comunque stiamo ancora ricercando la tecnologia quindi aspettiamo tanto qua abbiamo prelevato 200 blocchi ce ne hanno già fatti 77 io li piglio comunque perché mi fa molto utile vediamo se c'è qualcosa da craftare di interessante non ancora no abbiamo sempre quelle cose possiamo fare vedete che anche il glass il light purity il silicon l'energetico il grafite il grafite è molto importante serve anche il petrolio credo per credo anche alimentare noi stessi anche perché sì oddio abbiamo già consumato 110 di carbone quindi video un po' di transizione questo perché stiamo un po' ottimizzando vedete che qua si potrebbe fare molto di più ottimizzando le uscite e quindi facendo eh ma è lento vanno fatti dei dei conveyor più grossi o anche più veloci aumentando comunque la produzione ma vabbè poco male e poi dovremmo magari andare a convertire cambiare un po' le produzioni in modo da poter produrre anche il cristallo rosso che ci servirà per le ricerche successive poi dovremo anche esplorare il mondo là sopra c'è dell'alto c'è della pietra credo dovrebbe essere pietra c'è del petrolio petrolio credo che non ho ancora nulla per poterlo estrarre perché è la prossima ricerca andiamo a vedere intanto come va la water pump che sta producendo acqua abbastanza lentamente però vedete che sta prendendo forma perché si sta riempiendo il serbatoio non so ancora cosa mi servirà l'acqua ma lo scopriremo credo a breve anche perché se si raffina petrolio magari andremo a fare energia nucleare ci servirà intanto questo alberello qua mi dà fastidio allora 26 ancora per la ricerca quindi aspettiamo voglio vedere no voglio vedere un bel niente perché andiamo magari anche a ottimizzare altre zone con le pale allora vediamo un po' elimina questo e questo e questo quindi adesso manca l'energia giustamente che andiamo a mettere con queste qui è tutto alimentato lì va funziona gli manca questo che metto qui glielo metto anche qui che alimenta tutti e tre ok e poi andiamo a eliminare anche questo e glielo mettiamo lì allora intanto non ci arriva fino là quindi metteremo qua in mezzo questo che alimenta anche magari altro qua e poi uno di qua che alimenta anche la pompa quindi qua è tutto a posto abbiamo ridotto al minimo poi dobbiamo spostarlo a sto edificio perché perché non non ce la fa cioè sta finendo la zona qua allora qui non è alimentato perché perché non comunica con niente quindi dobbiamo fare un tramite qua ok ok abbiamo ottimizzato abbiamo guadagnato altre quattro pale che andiamo sempre a mettere qui nel nel parco eolico qui vediamo se possiamo metterlo anche qui no no e il parco ormai è così finito dobbiamo andare lungo la costa così e un altro qui ok quanti ne abbiamo ancora l'acqua no finiti finiti la ricerca breve finirà guardate adesso vista così non è bellissimo poi se venite qui a vedere non è non è male questa è una zona massiva di produzione poi potremmo rendere magari i pianeti quelli più improduttivi renderli solo di produzione energetica non c'è alimentazione perché non comunicano i due quindi facciamo una cosa qua vabbè è un po' lo spreco di energia ma mi produco no mamma mia no per l'amore di dio una non dieci una ok va bene una ok allora mettila qui e così a posto abbiamo trovato anche questi nuovi nuove cose facciamo l'energy matrix così andiamo a sbloccare anche il cristallino rosso 200 dove muoverceli dove muoverceli non ho ancora capito da dove me li scala se me li scala da quelli che ho in inventario che ne ho 131 mi manca una sessantina ma a breve li faremo andiamo a vedere le nuove cose costruibili che sono l'oil extractor e l'oil refinery quindi facciamolo subito allora qua c'è crude oil ok qua vicino che dovremmo riuscire ad attaccarci anche una una linea elettrica allora qua raffineremo il petrolio l'oil è il petrolio quindi facciamo un oil extractor mannaggia dobbiamo fare lo steel e lo steel non ce lo facciamo a farlo mannaggia come si fa lo steel non l'abbiamo non l'abbiamo non l'abbiamo a meno che non andiamo a vedere dovremmo avere un raffinery da qualche parte che avevamo piazzato eccolo lì un po' così a caso e vediamo se tra quelli abbiamo la possibilità di craftare si dovrebbe usare il carbone presumo allora elimina il progetto eh no non me lo fa non me lo fa non me lo fa lo steel non me lo fa probabilmente qualcosa di ricerca vediamo un attimo potremmo anche sospendere la metallurgia avanzata lo smelter eh no ma abbiamo già fatto questo no questo è lo steel smelting ecco lo facciamo non c'è fretta eh non c'è fretta quindi magari sospendiamo quella ricerca che stiamo facendo perché ce lo dovrebbe aver messo in coda lo elimino e passiamo allo allo steel smelting ok vedete che qua è fermo al 21 e gli ho dato compito adesso di fare lo smelting allora adesso io interrompo un attimino eh cioè nel senso ci sentiamo a brevissimo quando avremo ricercato anche lo steel ok manca pochissimo ne mancano 10 circa qua in alto vedete la cosa di cui mi sono accorto è che praticamente vedete l'impianto la lampeggia e se clicchiamo sopra ci dirà che è insufficiente la produzione di energia quindi quello che facciamo è andare a mettere delle torri tesla in modo ottimizzato il più possibile così in modo da alimentare anche tutta questa stazione che qua va ancora con eh mannaggia quello che non lo connette vediamo ok ok e quindi adesso dovrebbe essere tutto alimentato questa non serve ma gliela lasciamo lì giusto come supporto indipendente la tocca lontano e va bene dai non facciamo tanto guardare che spettacolo che spettacolo allora adesso abbiamo ricercato quella cosa quindi possiamo magari ah stavo guardando che qua non è solo qui la ricerca degli upgrade ma si va anche sotto e sotto si va qua mentre è tutto quello che è il mech quindi noi qua la costruzione verticale e le varie cose ma per farlo servono cristalli rossi quindi dobbiamo andare sulla ricerca e continuare quello che avevamo iniziato cioè questa l'energy matrix del rosso però intanto possiamo fare l'estrazione del petrolio petrolio che non mi ricordo più dove era di là eccolo lì vicino all'acqua era sì mi ricordo giusto quindi vediamo vediamo come funzia allora intanto prendiamo vediamo se c'è c'è stata data no ma scusate ok allora dicevo l'estrazione è questo l'oil extractor ci serve questo quindi dobbiamo andare a fare una vediamo non mi ricordo perché ovviamente come ho già detto più volte lo sto esplorando insieme a voi possiamo raffinare nello smelter abbiamo uno smelter perché l'abbiamo un assembler uno smelter non lo abbiamo perché lo abbiamo ma sta già lavorando per conto suo quindi qua ci facciamo uno smelter che è questo ne facciamo uno che qua sarà già sicuramente alimentato mentre lo produciamo liberiamo un po' l'aria e così produciamo inserendo noi direttamente i materiali e probabilmente lo steel si farà con il carbone se la logica non mi inganna allora andiamo smelter mettilo qui già alimentato quindi perfetto allora producimi queste che servono gli iron ingot e basta senza il carbone vabbè vabbè acciaio 1810 nelle nocchie allora iron ingot iron ingot iron ingot lo produci qui quindi dammi gli iron ingot ottimo ne hai presi 100 dalla produzione così vedete che tempo reggerà un attimo adesso allora prendiamoci anche questi e continuiamo e andiamo la allora depositiamo all'interno i nostri ingot eccole lì mettiamo dentro un po' produciamone un po' non so adesso quanti me ne servono per fare vediamo un attimo per fare l'extractor ne servono 12 e 10 per fare la raffineria quindi quindi 22 circa beh iniziamo a prenderne quando ne abbiamo 12 iniziamo già la produzione dell'altro 1 2 perfetto vai fatti valere come siamo messi a carburante non tanto bene ma aspettiamo ancora un attimo allora sì a breve ci siamo molto bene ok ho il alfinery e ho il extractor è quasi pronto intanto buttiamo giù tutto ok eccola qua l'abbiamo fatta la piazziamo e là enorme sta cosa ottimo allora allora tech mamma mia che bello poi nelle ricerche negli upgrade potremmo decidere anche di andare a ricercare una velocità maggiore di mining di estrazione e un consumo inferiore quindi 10% in più di velocità 6% in meno di consumo quindi qua sta producendo vedete crevuda oil che andremo poi a raffinare quindi presumibilmente dobbiamo tornare di là prendere le altre lastre di acciaio queste ah non ci basta vabbè metti dentro qui e continua ok ce ne servono una decina quindi uno e un altro ancora grazie e facciamo anche il raffinery oil raffinery ok abbiamo abbastanza sì di questi abbiamo abbastanza di di sorter sì mi danno fastidio gli alberi tanto quindi li butto giù ok e iniziamo a mettere il rullo rullo qui vediamo se già funziona me lo fai comunicare con quei no 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 e quando vi fa così è perché semplicemente avete fatto come me e li avete montati al contrario ok dovete sempre tenere potete congiungerli come volete all'inizio pensate magari non si può fare no in realtà va da tale direzione logica perché se no eccolo qua eccolo qua che arriva copioso lo spostiamo di qua allora il refiner il raffinatore lo sta facendo ci metterà una vita quindi iniziamo magari a fare lo facciamo girare di qua ok basta e poi butteremo tutto nel raffinatore e poi butteremo tutto nel magazzino magazzini che sono impilabili uno sopra l'altro per fare i magazzinamenti a più livelli ma quello è una cosa successiva che si farà in seguito ci sta mettendo un pochino vedete che crea anche nuove componenti che abbiamo ricercato a breve avremo anche la nuova la nuova ricerca quindi scopriremo anche che cosa serve per produrre il frammento rosso poi calcolate che nella ricerca per finire la partita quindi finire la main quest serviranno 4.000 di queste che a sua volta viene richiesta la produzione di tutti i blocchi possibili immaginabili e l'universe matrix che contiene tutto 2.000 di ognuno quindi sono 5 diversi addirittura qua possiamo fare una stella artificiale cioè produrre una fonte di energia con l'annientamento la reazione di annientamento controllata addirittura qui quindi qua abbatteremo i nostri nemici con un click presumo poi io di nemici non ne ho visti non so se ce ne sono in altri pianeti in altri sistemi se qualcuno di voi lo ha giocato molto più approfonditamente di me prego di farmi sapere allora adesso stiamo costruendo questo l'abbiamo fatto eccolo qui questo è il raffinatore vedete che entra di lì ok prendiamo questi li mettiamo qui questo produce molteplici prodotti ah ok cioè in sintesi possiamo produrre componenti e building componenti ci produce il plasma ah ok perché può fare più cose in base a dove decideremo di cioè le ricerche che faremo va bene perfetto ottimo adesso prendiamo il sorter ok non dovrebbe iniziare a buttare dentro tutto ok abbiamo ricercato anche l'energy matrix perfetto adesso io gli dico di riprodurmi questo perfetto inizia la produzione poi non abbiamo la terraformazione quindi questa qui c'è questa fastidiosa salitina ma va bene piazziamo qua davanti un magazzino e poi anche qui ok e poi un sorter che prende e butta dentro tutto qua me l'hai non me lo fai uscire no perché ci sta mettendo una vita a produrlo non me lo fa butta fuori ma non lo so perché non non me lo fa ah mi butta fuori due cose due cose butta fuori quindi scusate adesso io voglio riprovarci perché lo sto imparando vediamo cioè in sintesi dobbiamo prendere il sorter e dirgli ah interessante praticamente noi prendiamo il sorter e lo buttiamo lì ne prendiamo un altro che non abbiamo quindi andiamo a fare subito ah no qua butta fuori qualcosa non so cosa butti fuori ma sta buttando fuori idrogeno ok da qua invece prendi un altro sorter e butta fuori non so che cosa butterà fuori qualcos'altro immagino ah qua non è alimentato quindi altra torre tesla ok ok e qua invece butta fuori che cosa facciamo un altro magazzino stiamo andando un po' così a caso ma essendo la mia prima partita non posso che dirmi soddisfatto perché comunque imparerò un pochino a a giocarlo e stone mi manca la stone che è qua dietro imparerò a giocarlo ed eventualmente quando inizierò una nuova partita sarò già pronto per fare le cose in modo più logico ok produce un magazzino vediamo che cos'è questa roba qua ma credo sia il il petrolio quindi qua idrogeno qua petrolio due magazzini addirittura mi servono ottimo magazzino qui eh conveyor e poi vai di qua e poi mi metti un sort che prende e butta dentro quindi qui abbiamo il petrolio raffinato e qua abbiamo l'idrogeno ah qua butta dentro un po' e un po' un po' e un po' dobbiamo impostare a questo eh filtrare e dirgli butta fuori solo idrogeno ok ok abbiamo capito e qua butta fuori un po' e un po' quindi io gli dico a questo sort scusami se me lo fai cliccare ok metti solo eh refined oil ok filtrato quindi adesso vado e mi prendo tutto l'idrogeno no scusate tutto il petrolio io qua butto dentro tutto l'idrogeno e qua invece mi prendo l'idrogeno e butto dentro tutto il crude oil e il refined oil scusate molto bene quindi abbiamo vedete qua il magazzino viene indicato con quello che c'è all'interno molto bene abbiamo fatto questo ora come ultima cosa prima della conclusione andiamo a vedere che cosa è richiesto per la produzione invece del frammento rosso eh se io dicessi annulla e fai questo questo ha bisogno di energetic grafite l'energetic grafite è una risorsa che possiamo fare anche noi stessi e richiede molto semplicemente solo carbone molto interessante perché se ci chiede solo carbone abbiamo trovato un senso a questo impianto questo quindi qua possiamo fare una raffineria crea quello che serve magari scavalla va da qualche altra parte magari qui e qui un altro di questo va e produce solo soltanto questo anzi tra l'altro no idrogeno è questo l'idrogeno lo stiamo accumulando nel magazzino lì in alto quindi molto interessante ah qua possiamo ah può generare anche ricerca ok possiamo anche focalizzare uno di questi all'introduzione solo di queste cose e quindi aumentare la potenza della ricerca ma non mi interessa perché voglio fare la produzione quindi continua la produzione bene ragazzi allora concludiamo qua questo terzo episodio di Dyson Sphere program siamo andati ancora avanti facendo il parco eolico aumentando la ricerca estraendo il petrolio con questi mega impianti vediamo com'è visto dal pianeta il nostro impiantino è un pianeta piccolo ancora siamo a un passo quello lì che vedete è il polo non siamo espansi moltissimo diciamo arriviamo fino qui però il pianeta sembra essere comunque molto grande quindi lo esploreremo comunque ora tutto in mano i dati nel senso che vedremo quanto la serie vi piace e quanto avrà senso continuarla insomma perché a me il gioco diverte ringrazio ancora ciccio per avermelo regalato grande perla l'avevo vista e scartata mea culpa mea culpa davvero fatemi sapere cosa ne pensate con sotto nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao